e ciao a tutti ragazzi bentorni dal vostro bella roba di guacchiotto benvenuti in questo nuovo video in questo video sono qua per parlarvi di una trattativa che ad agosto purtroppo si è frenata definitivamente ma che in questi ultimi giorni è tornata quindi si è tornata quindi a parlarsi e che potrebbe addirittura andare a buon fine sto parlando ovviamente della trattativa che potrebbe portare molto probabilmente il giocatore Denis Zakaria dal Borussia Mönchengladbach alla Roma bene ma prima di cominciare a parlarvi di questo argomento qua vi invito a lasciare un like condividere il video vi invito ad iscrivervi al mio canale attivate la campanellina per non perdere nessun video e inoltre invito anche a seguirmi su Instagram bene detto questo vanno alle ciance e possiamo iniziare con questo video segnali importantissimi segnali importantissimi dalla Germania perché dalla Germania ci stanno dicendo che Zakaria non ha ancora rinnovato il contratto col Borussia Mönchengladbach e che non ha intenzione nessuna minima intenzione di rinnovare il contratto questi sono segnali importantissimi perché vogliono dire che lui sa già dell'interesse che c'è che ha la Roma sul giocatore e sa soprattutto di non voler più restare in quella squadra qua ricordiamo che il giocatore nell'estate scorsa ha già fatto sapere di voler gradire in una squadra come Roma cioè lui gradirebbe una destinazione come la Roma e soltanto che poi non è andata a buon fine perché non si è riuscito a trovare un accordo definitivo che potesse portare alla fumata bianca e invece questa fumata bianca sembra che ci siamo proprio vicini perché? perché grazie a questa fumata bianca la Roma potrebbe chiudere per Zakaria proprio prendendolo però soltanto cioè nel senso prendendo il giocatore spendendo soltanto poco meno della metà perché il giocatore in teoria costerebbe 20 milioni però con il giocatore che è vicino a meno di 6 mesi scade il contratto potrebbe essere ceduto a meno di 10 milioni quindi precisamente la Roma potrebbe chiudere l'affare a 8 milioni quindi potrebbe portarsi a casa il centrocampista che Mourinho ha già chiesto che ha chiesto a Tiago Pinto già erano i giorni che stava a Roma quindi sarebbe un colpaccio sarebbe un grandissimo colpaccio per un giocatore fisicato duttile bravo tecnicamente anche come Zakaria che il suo talento ovviamente è indiscusso non si può discutere l'abbiamo già visto in una partita di Svizzera-Italia che ha già fatto vedere la sua pasta è un giocatore molto molto forte tecnicamente non è un mediano come Shaga però è un giocatore che rientrebbe benissimo nel 4-2-3-1 di José Mourinho giocatore molto giovane 25enne il difetto è che si infortunia spesso ecco praticamente Roma è un ambiente maledetto per ricevere infortuni è un ambiente maledetto come li conosciamo come abbiamo già visto negli scorsi anni è un ambiente maledetto noi speriamo che il giocatore possa rompersi molto molto di meno e che possa soprattutto diventare subito uno dei beniamini di questa squadra e inserirsi subito in questo club ovviamente sempre si arriverà sempre si arriverà perché noi dobbiamo ancora aspettare che questa adattativa possa concludersi cioè possa diciamo far sì che possa andare a buon fine perché ce dobbiamo ancora aspettare la fumata bianca definitiva ancora non è arrivata ci sono segnali importanti però ancora la fumata bianca non è arrivata Roma e Borussia Mönchengladbach stanno ancora discutendo su ultimi dettagli la Roma diciamo sembra che abbia in mano però Zagaria sembra che l'abbia proprio in mano e di certo sarebbe e di certo ci sono tantissime possibilità cresce l'ottimismo cioè giorno dopo giorno sta crescendo l'ottimismo per portare a casa Denis Zagaria cioè questo è vero però non è ancora chiuso in caso l'adattativa non dovesse andare a buon fine il giocatore quindi resterà al Borussia Mönchengladbach fino alla fine dell'anno e poi lascerà la squadra a parametro zero quindi il giocatore l'adattativa comunque vada lascerà comunque il Borussia Mönchengladbach a parametro zero quindi io penso che il Borussia non gli converrebbe tenersi il giocatore fino alla fine dell'anno perché sapendo che poi il giocatore non volendo rinnovare poi lascerà la squadra a parametro zero anche perché poi ha già fatto sapere di volere la Roma cioè ha già fatto sapere che lui gradisce la destinazione che gli ha già fatto un'offerta quindi diciamo ai tedeschi non gli converrebbe adesso aprire una guerra cioè nel senso aprire un adesso con una risposta cioè sparando alto 20 milioni 25 eccetera come fanno gli inglesi non gli converrebbe quindi secondo me al Borussia Mönchengladbach gli converrebbe dare lì al giocatore considerando che lui non vuole più restare al Borussia Mönchengladbach e darcelo a noi comunque comunque vada questa attiva io spero che vada veramente a buon fine perché sarebbe un grandissimo colpaccio ragazzi ma ve lo immaginate ma ve lo immaginate la coppia Veretu-Zagaria mamma mia ragazzi che coppia sarebbe una grandissima coppia una grandissima coppia anche lui ha da fare dei conti con degli infortuni perché ha gli infortuni fragili però però se in forma è un grandissimo calciatore è un grandissimo calciatore quindi io spero che questa trattativa vada a buon fine lo speriamo tutti poi poi certo con l'arrivo col possibile l'eventuale arrivo di Zagaria aprire quindi spalancherebbe le porte a due giocatori che sono ai margini del progetto e che non rientrano proprio nei piani di Mourinho ovvero sto parlando di Diavara e Villar quindi uno dei due lascerà di sicuro la Roma io spero Diavara perché secondo me Villar ha qualche qualità buona ce l'ha qualche qualità in più rispetto a Diavara ce l'ha quindi io spero che rimanga Villar e Diavara se ne vada perché non mi ha convinto nella Roma e poi comunque sì speriamo che questo giocatore possa diciamo come dire possa possa diciamo venire alla Roma perché è un giocatore molto importante soprattutto per il gioco di Mourinho e ragazzi che dire con questo concludo qua il video se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace un commento fatemi sapere se secondo voi Zagaria verrà alla Roma oppure no e ragazzi Bellarobby vi manda un salutone un bacione noi ci vediamo al prossimo video sempre sempre forza Roma ciao ragazzi